quello che faremo, cercheremo di semplificare, cercheremo di ottimizzare come sanno fare le donne e le persone pulite perché io non sono né per le quote rosa, le donne che sono con me sono donne, potrebbero essere uomini ma sono vicine a quello che noi stiamo pensando, che stiamo cercando di fare abbiamo iniziato piano piano, ci crediamo, ci crediamo davvero abbiamo messo un pochettino dentro le mani quello che è già il comune abbiamo parlato di cose che fino all'altro giorno non ne sapevamo molto adesso invece ci siamo informati, quindi stiamo parlando di piano urbanistico stiamo parlando di edilizia, stiamo parlando di consumo di suolo sei proprio presso ecco vedi, io studio, la notte studio non mi voglio far trovare impreparata, anche perché se no mi dicono ma tu fai la presso, che cosa vuoi sapermi di queste cose tu andrai là e dopo due mesi farai anche tu come hanno fatto tutti invece noi siamo molto forti e diciamo noi andremo là e faremo se andremo là, se ci farete andare là, faremo sicuramente quello che quelle persone che adesso sono là non hanno fatto cioè faremo qualcosa per la nostra città